Si arricchisce il Museo degli Angeli di Sant'Angelo di Brono. L'artista Gianni Maria Tessari ha donato 18 opere realizzate per l'illustrazione del libro di Vini Scorsone, Nina e il Natale dei Gatti. Le opere, che compongono la mostra fiabe al muro, narrano la storia di Nina, una bambina molto vivace, tanto vivace che si caccia sempre nei guai. La fiaba di Vini Scorsone, magistralmente interpretata da Gianni Maria Tessari, assume un doppio livello, mondo fiabesco e reale, favola per adulti e storia infantile. Il luogo della fiaba è la città, ma è anche un castello. L'idea di far interpretare pittoricamente la storia di un artista come Gianni Maria Tessari è nata dall'esigenza di rendere la fiaba stessa atemporale e libera dai canoni illustrativi. Nei quadri di Tessari è molto evidente che i muri, i cartelloni stradali, prendono vita, diventando frammenti di un arcobaleno interiore che oggi, più di ieri, va sempre più sbiadendosi. La città così reale, così grigia, si anima nel momento in cui la fantasia mette in contatto le persone con l'altro mondo. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni, dalle 8.30 alle 18.30, festivi compresi, fino al prossimo 31 gennaio. Io faccio parte di un'altra generazione.